Era il dicembre del 1914, quando ancora agli alburi del cinema la città di Barletta poté freggiarsi di un nuovo contenitore culturale che avrebbe accompagnato la vita dei suoi abitanti per oltre cent'anni. Nasceva un secolo fa il Politeama Paulillo, tra i primi in Italia a proiettare film muti e in bianco e nero per un pubblico che solo in quegli anni andava scoprendo la magia del cinematografo. Un traguardo straordinario che il cinema Paulillo ha voluto festeggiare organizzando una notte bianca dedicata interamente alla settima arte e ai suoi protagonisti. Dal barlettano Mandrico Gammarruta ai foggiani Pio e Amedeo in tanti hanno voluto essere presenti per rendere omaggio al pioniere Francesco Paulillo e agli eridi che per un secolo ne hanno custodito e proseguito l'opera. Io non posso che essere riconoscente nei confronti di mio nonno che con uno spirito avventuriero decise di aprire questo cinema. Poi il mio padre che hanno sempre mantenuto un costante aggiornamento del cinema alle varie esigenze. Noi abbiamo continuato così, siamo stati forse la prima Sara in Puglia a dotarci della digitalizzazione. Ovviamente è cambiato molto, è cambiato tanto, è cambiato sia come organizzazione sia come gestione, ma è cambiato anche come riferimento. Prima il cinema era forse l'unico, l'esclusivo modo per impegnare il tempo libero. Quindi si faceva cultura ma si impegnava anche il tempo libero. Oggi le occasioni e circostanze sono tante. L'archivio della famiglia Paulillo ricorda tutte le tappe più significative che hanno portato l'antico Politeama a diventare il moderno cinema multisala che oggi tutti conosciamo, in grado di festeggiare uno storico compleanno che poche strutture in Italia possono vantare. Ci voleva molto coraggio all'inizio, stiamo parlando di un periodo in cui il cinema era veramente da pionieri, attivarlo in maniera industriale, così come fu per il Paulillo. E ovviamente oggi è veramente ancora più incomiabile avere il coraggio di fare impresa con il cinema e con lo spettacolo in generale. Quindi è veramente un bel traguardo, ma è un bel traguardo anche per Barletta oltre che per la ditta Paulillo. Quindi io sono molto orgoglioso di avere come soci queste famiglie, questi imprenditori, questi esercenti cinema. Difficile rimanere sempre al passo con i tempi che cambiano e che lanciano sfide sempre più ardue per chi nell'epoca di internet e della globalizzazione vuole proporsi come luogo di cultura e aggregazione sociale, ma il cinema Paulillo sembra essere vera e propria anima della città, che preesiste e sopravviva ai suoi stessi abitanti, alle mude che cambiano, alla tecnologia che avanza. Noi vogliamo testimoniare una presenza, una presenza in questa città. Abbiamo deciso di fare una notte bianca del cinema a porte aperte alla città in segno di ringraziamento per 5, 6, 7 generazioni che sono passate per questa sala e anche per dire noi ci siamo, vogliamo continuare ad esserci.